La nuova ragazza del suo ex proprio non le andava giù e forse un po' anche per vendicarsi di lui. Una 29enne vicentina ha invaso Facebook con definizione a dir poco colorite della nuova compagna. La 29enne di professione operaia non si è limitata a postare le invettive sul suo profilo, ma anche in quello della malcapitata, in quello dell'ex e anche nel profilo Facebook di un locale frequentato dalla vittima e che aveva pubblicato una sua foto. Una vendetta che però le è costata cara, la 29enne infatti per far ritirare l'inevitabile denuncia e non finire a processo ha dovuto staccare un assegno di quasi 10.000 euro per esercire la nuova fidanzata del suo ex.